Sei in cerca di occupazione, ovviamente nel Salento la prima cosa che si fa è cercare nelle strutture estive. Tu lo stai già facendo, quali sono le risposte che stai ricevendo? Molti annunci di lavoro, molti imprenditori esasperati in cerca di personale, in cerca di figure professionali. Il problema è che, anzi il guaio è che i contratti non sono assolutamente regolari, non ci sono giorni di riposo, quindi si lavora sette giorni su sette e pur di mascherare questa continua presenza dei lavoratori dipendenti perché in regola gli imprenditori rispondono che è un lavoro stagionale. Non c'è la possibilità di prendere un'indenità di disoccupazione e nel frattempo cercare un'altra occupazione anche temporanea pur di mandare avanti la famiglia. Perché scegli di rimanere qui? Qui ho i miei affetti, questa è la mia terra. Quanti anni hai? 29. Pensi ad un futuro con una famiglia o la situazione lavorativa non ti permette nemmeno di pensare ad un futuro? Io vorrei rendermi autonomo ma il problema è che in queste condizioni non riesco. Sei un imprenditore turistico, si può parlare in Salento di destagionalizzazione? No, assolutamente, perché ci troviamo sempre in difficoltà. Quali mesi principalmente hai possibilità di guadagnare? Luglio-agosto. Soltanto luglio-agosto? Sì, luglio-agosto. Quindi non ti permettono questo di fare contratti almeno di sei mesi ai ragazzi? No, assolutamente, perché abbiamo una mole di lavoro talmente bassa durante l'anno che non ci permette di assumere personale.